A volte ritornano, si dice così, di persone che vanno via e poi improvvisamente si rivedono. È il mio caso. Mi sono allontanato da Tele 8 da un paio d'anni per motivi familiari, ma questa TV non si può dimenticare perché sono stato chiamato nel lontano 2002 per dirigere l'emittente appena nata e quando Cecela, moglie Mariella, Nicola, Ciccio, il direttore Pasqualino Mattarocci ed altri mi hanno detto, ritorna, fai qualcosa, ho riflettuto parecchio su questo invito e poi vivendo ancora oggi quei problemi familiari che mi hanno allontanato due anni fa, ho dato la mia disponibilità per qualche breve intervento creando un mio personale blog le cui riflessioni e opinioni saranno variegate, dalla società alla politica, ai costumi allo sport, eccetera, eccetera. Oggi, per esempio, vi parlerò di bullismo, che è una piaga. Si susseguono con scadenza, infatti, spaventosa. Da nord a sud Italia le aggressioni verbali e fisiche, i danni di professori diventano sempre più efferrate grazie alla diffusione virale dei video sui social network. Poche settimane fa, a Mazzara, per esempio, un ragazzo è stato assalito da un gruppo di bulli sol perché tentava di mettere fine ad una lite tra bulli e uno studente. Il 2 ottobre scorso, un cittadino di Mazzara, stanco di vedere i propri nipoti essere vittima di bulli e presunte baby gang, se così si possono chiamare, scrive a Teleotto e sottolinea che il problema ormai è evidente in città, ma sembra non essere trattato come si dovrebbe. E il cittadino scrive, sappiamo quali sono, si riversano in centro città compiendo vari atti di micro criminalità, ad esempio rubando soldi o cellulare a ragazzi più piccoli, spesso quello che fanno è pestare altri ragazzi, parlo di ragazzi dai 12 ai 15 anni senza nessun motivo. Spero, continua questo telespettatore, che in città ci siano più controlli da parte degli organi di pubblica sicurezza e degli agenti della Polizia Municipale. Ma non è finita, perché ora ci sono le mode. Tra i banchi di scuole si registra infatti un altro fenomeno, il sexy thing, ovvero la diffusione di foto intime spesso scattate nei bagni degli istituti durante l'intervallo oppure nelle ore di lezione. Il caso, per esempio, che è successo a Lecce è il più recente, aggressione e umiliazione in classe per un ragazzo di 17 anni. I compagni gli toglievano la maglietta per usarla, pensate un po', come cancellino della lavagna. I genitori hanno presentato una denuncia allegando un video fatto da un amico del giovane e ricevuto dalla madre in chat. Violenza fisica, violenza verbale e via web. Un atteggiamento che i bulli manifestano in classe, ma che invece sembra nascere tra le mura domestiche. Assistiamo certamente ad una crisi di autorevolezza della famiglia. I genitori hanno oggi poco tempo da dedicare ai propri figli e spesso per compensare questo deficit tendono ad accontentarli nelle loro richieste. Da volte i genitori pensano che assumere un ruolo paritario aiuti la relazione con i figli, ma non è così. La famiglia ha anche un ruolo fondamentale nel trasmettere il senso di rispetto verso la scuola e gli insegnanti. Se la scuola sanziona un ragazzo, è dovere dai suoi familiari capire che cosa sia successo e confrontarsi con gli insegnanti. Assistiamo invece oggi ad una colpevolizzazione della scuola, ma le famiglie dovrebbero farsi un bel esame di coscienza. Ma io vorrei che su questo argomento, magari voi telespettatori, potete benissimo intervenire, dire la vostra, con autorevolezza, con critica, eccetera, eccetera. Per questo potete scrivere una email a teleottotv.gmail.it oppure sul sito, potete consultare il sito web teleottotv.it oppure sui profili social Facebook e Instagram. Ecco, così possiamo intrattenere un certo dialogo. Si intende che i vostri scritti, le vostre risposte, saranno pubblicate appunto sul sito www.teleottotv.it È tutto, grazie.